Oggi c'è un paese in Africa diverso da tutti gli altri. È il Sudafrica, grande quattro volte l'Italia e con una popolazione di poco inferiore. Geograficamente è il più lontano dall'Europa, culturalmente forse è il più vicino. Oggi a tre secoli e mezzo dall'arrivo degli olandesi a due secoli da quello degli inglesi, un sudafricano su 12 è di origine europea, per lo più olandese, i boeri o africaners. Un secolo fa erano più del doppio, uno su cinque. Oggi il colore della pelle in Sudafrica non è ancora un dettaglio. A 27 anni dalla fine dell'apartheid la politica continua a soffiare sulle tensioni, soprattutto per la questione delle terre, il 72% delle quali è in mano ai bianchi. Oggi il Sudafrica registra diversi record negativi nel mondo, il tasso più alto di violenze sessuali è quello di omicidi e anche il paese con il maggior numero di malati di AIDS. Oggi il problema principale del Sudafrica è però una diseguaglianza a livello sociale che non ha pari al mondo. L'1% più ricco della popolazione possiede da solo oltre il 70% della ricchezza nazionale. Oggi molte speranze sono legate alle prossime elezioni politiche in programma tra un anno. Nel frattempo, in seguito a uno scandalo di corruzione, l'ex presidente Zuma si è dimesso ed è stata eletta al suo posto Ramaphosa, ex braccio destro di Mandela. Inizia una nuova era per il Sudafrica. Cyril Ramaphosa è il nuovo presidente d'Interim. Già vice capo di Stato è diventato automaticamente il nuovo leader, la nuova guida, dopo le dimissioni annunciate da Jacob Zuma. Il leader dell'African National Congress ha fatto della lotta alla corruzione e la sua bandiera. Dovrà cercare di porre fine a quelle fratture etniche e alle diseguaglianze che dividono il paese dalla fine dell'apartheid. Martedì 27 febbraio i sudafricani, attraverso i loro rappresentanti in Parlamento, hanno votato a maggioranza schiacciante una mozione per modificare la Costituzione, volta ad accelerare un'equa redistribuzione delle terre attraverso l'esproprio senza compensazione. Si tratta di una questione che noi, in quanto governo, continueremo a gestire con estrema cura e responsabilità. Non ci saranno né furti né espropri di terre nel nostro paese. «Noi non lo permetteremo». Concederemo visti umanitari per i farmers bianchi sudafricani, è quanto ha dichiarato il ministro degli interni australiano, il conservatore Peter Dutton, sottolineando che queste persone perseguitate hanno bisogno dell'aiuto di un paese civile come il nostro. E mentre a Pretoria scoppia la polemica, con il governo sudafricano che ha chiesto le scuse ufficiali del governo australiano, il neopresidente Cyril Ramaphosa ribadisce uno dei nodi centrali cari al suo partito, l'ANC, ossia la riforma agraria e la redistribuzione delle terre ai neri. Intanto l'associazione in difesa della minoranza bianca Afri Forum denuncia un aumento esponenziale delle violenze contro gli agricoltori bianchi discendenti dai coloni. Secondo questa organizzazione sarebbero infatti 80 gli agricoltori bianchi uccisi nel 2017. «In Sudafrica il tasso di povertà sarà dimezzato entro il 2030, è quanto dichiara la Banca Mondiale. Tre rimedi da adottare, la lotta alla corruzione, la gratuità dell'estruzione superiore, la riforma della gestione dell'industria mineraria, oltre all'imposizione di tasse diversificate per sigarette, alcolici e carburante. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Nazionale di Statistica è pubblicato nel 2017. Tra il 2011 e il 2015 erano 14 milioni i sudafricani al di sotto della soglia di povertà. Sempre secondo la Banca Mondiale, l'elevato tasso di criminalità presente nel paese non aiuterebbe gli investimenti esteri necessari per aumentare la creazione di posti di lavoro e ridurre così le disuguaglianze». «Non sono più i nostri nemici oggi gli africaner. Essi sono i nostri fratelli sudafricani». «I nostri concittadini in democrazia. Noi dobbiamo essere migliori. Dobbiamo sorprenderli con la comprensione, con la moderazione e con la generosità. Io conosco tutte le cose che loro ci hanno negato. Ma questo non è il momento di consumare meschine vendette. È il momento di costruire questa nazione, usando ogni singolo mattone a nostra disposizione». «Le emozioni del film Invictus hanno chiuso la copertina di Solène Deluca che ci ha fatto un quadro dei problemi attuali del Sudafrica e delle tante sfide che attendono il nuovo presidente. Tante perché il Sudafrica è un paese da un lato bellissimo, dall'altro anche altrettanto complicato. Per fortuna nostra ci aiuta a capirlo uno degli italiani che lo conoscono meglio, che conoscono meglio il Sudafrica perché va lì ormai da vent'anni, ospite delle università sudafricane. Per dire, lo conosce così bene che i sudafricani stessi lo invitano a parlare di Sudafrica. Docente alla Cattolica, ricercatore dell'ISPI, Rocco Ronza, benvenuto». «Grazie». «Per presentare l'ospite di solito gli chiediamo di portarsi una foto, come un curriculum diciamo. E lei la foto che ci ha portato è meravigliosa perché questa racconta il Sudafrica, cioè questo è il motivo per cui il Sudafrica è il Sudafrica. Lei lì si trova?» «Al capo di Buona Speranza, cioè il punto più meridionale dell'Africa e di tutte le masse, la massa continentale è emersa e al punto di incontro tra due oceani che sono anche due mondi diversi, cioè l'oceano atlantico e l'indiano. Quindi al punto più basso dell'Africa passavano i navigatori». «Sì, e dove poi è stata fondata Città del Capo, che è la città madre del Sudafrica». «E loro passavano di lì perché dovevano andare nelle Indie». «Sì, perché per gli europei l'inizio dell'espansione del Cinquecento è legata alla possibilità di raggiungere le isole delle spezie, che sono poi l'Indonesia la Malese attuale e il passaggio allora era obbligato, non c'era il canale di Suez e quindi si passava da lì». «Ora non solo sono passati, ma si sono pure fermati». «Si fermano perché è un viaggio pericoloso e duro, in cui lo scorbuto miete tante vittime a bordo e quindi gli olandesi hanno l'idea di trovare una terra temperata che assomiglia un po' all'Europa». «Certo, perché il clima non è un clima caldissimo». «Lì, come in Sud America o come in Australia torna ad essere fresco». «Certo, certo». «Quindi la vite attacca bene». «E quindi stavano bene lì e hanno deciso di restare. Ed è il motivo per cui ci sono stati così tanti bianchi nel corso degli anni. Bianchi che si sono mischiati ai neri, ma mischiati fino a un certo punto». «Eh sì». «Questa foto che vediamo adesso, forse io la chiamerei la foto della vergogna, perché dal 48 al 91 c'è stato questo in Sud Africa». «Sì, l'Apartheid». «L'Apartheid». «Vedo che lei lo pronuncia come lo pronunciamo noi». «In africans, che è la lingua in cui nasce, è Apartheid». «Apartheid» «Apartheid» è all'inglese, ma è giusto dire. «Quindi lo pronunciamo bene così, Apartheid». «3 milioni e mezzo di neri deportati nel sud del paese, ma come viene in mente una cosa del genere?» «In realtà è il protrarsi di una cosa che c'era prima. Cioè le colonie di popolamento europeo avevano tutte, pensiamo gli Stati Uniti, gli Stati Uniti del Sud, ma anche tutte le altre colonie africane avevano la segregazione tra i coloni bianchi e gli indigeni. Questa cosa però negli anni 30 inizia a apparire come anacronistica e disumana e quindi viene abolita progressivamente. Il Sud Africa congela questa situazione perché ha una strana combinazione unica nel mondo, cioè è un paese in cui i coloni europei sono tanti ma non abbastanza a sommergere gli indigeni, come fanno in America, ma sono anche un numero sufficiente per aver messo, per mettere radici, aver trasformato il paese e quindi per non poter partire». «Quindi hanno il potere in mano, non sono però maggioranza, si devono adattare in qualche modo e decidono questa separazione che veramente nella foto che abbiamo visto era terribile perché c'era questo bagno che era riservato soltanto ai bianchi, ma è una separazione che non arriva soltanto nei bagni, arriva in molte altre parti, per esempio nelle scuole e allora accade una cosa incredibile. Sentite questa canzone, la riconoscete, questa è The Wall, The Pink Floyd? Accade che questa canzone nel 1980 arriva in cima alla classifica Lit Parade sudafricana e tutti gli studenti neri la adottano quasi come un grido di battaglia perché non potevano avere le stesse opportunità degli studenti bianchi e il governo decide di vietarla, quindi Pink Floyd diventano un caso nazionale, quindi addirittura non si poteva neanche studiare le stesse materie». «Diciamo che la separazione di questi mondi, che inizialmente è facile perché sono mondi diversi, nelle città ci sono i bianchi, nelle zone tribali ci sono gli africani, diventa sempre più naturale e quindi sempre più violenta man mano che le popolazioni si mischierebbero, quindi gli africani entrando in città, urbanizzandosi iniziano ad aspirare naturalmente alle stesse cose». «Alle stesse posizioni, quindi non gli fanno fare le stesse scuole?» «Fanno scuole separate». «E che possono studiare gli africani?» «Possono studiare quello che si teorizza che debbano studiare le cose che servono per un gruppo che è più indietro nel percorso di sviluppo». «Quindi tipo coltivare la terra?» «Diciamo più funzioni manuali, come forse le nostre scuole professionali». «L'avviamento di un tempo, insomma, poi non ci si poteva sposare?» «Poi vengono vietati, anzi vengono confermati i divieti che c'erano, ricordiamo, anche negli Stati Uniti fino agli anni 60, in molti paesi, in molti Stati del Sud, il divieto ai matrimoni misti tra bianchi e neri». «Questa è una cosa che negli anni 50 e 60 diventano, come dire, proprio indignano buona parte dell'opinione pubblica». «Certo, dell'opinione pubblica, quindi sanzioni internazionali al Sudafrica che però, un po' di anni dopo, nel 1993, finalmente arriva, diciamo, sull'altare perché viene premiata con il Nobel per la pace. Nobel per la pace che viene dato a Nelson Mandela e al presidente de Klerk. Mandela era uscito di carcere a febbraio 90 e qui non viene premiato solo lui, viene premiato lui, ma anche il presidente sudafricano che era stato artefice come lui. Dicono che i due non andassero neanche, diciamo, troppo d'accordo, però sono stati bravi». «Beh, sì, quelli sono anni, inizio degli anni 90, in cui molte persone, molti leader fanno la differenza anche sapendo pensare fuori dagli schemi o sapendo uscire dai vecchi schemi. E anche l'empatia o la capacità di stabilire relazioni tra persone, tra leader politici, è decisiva in molti paesi. Pensiamo a Polonia con Valesa, Iausevski o Abel. Il rapporto è difficile perché è anche un rapporto politico. Dietro ci sono, come dire, un regime che va via e un regime che entra. «Non si fidavano magari tanto l'uno dell'altro?» «Ebbè, c'è tutta una narrativa su questa…» «Anche sugli aspetti proprio di relazione, giustamente, di fiducia che si dova costruire in questi casi». «Però poi alla fine si fidano, forse per necessità, no? Forse, però si fidano e ce la fanno». «E infatti poi il rapporto non si rompe mai, non diventano amici, ma diciamo che tutte e due ricordano col rispetto l'altro». «Quasi amici, diciamo così». «Questo nel 93 accadeva, che è dicembre 93 di solito, il Nobel a dicembre. 94, dal 27 al 29 aprile del 94 si dice i tre giorni che cambiano la storia. Alcuni sudafricani hanno detto il giorno in cui Dio ha messo i piedi in Sudafrica. Queste sono le elezioni. Guardate questa foto di sotto, era una delle tantissime file enormi per andare a votare. E le tre foto di sopra sono due file, a destra e a sinistra, e Nelson Mandela che naturalmente va a votare. Vince Mandela, si dice cambia la storia. Veramente è stata cambiata la storia in quel giorno oppure no?» «Certamente, come tutto il mondo coglie in quell'occasione, una cosa storica avviene. Cioè un paese che dagli anni 70 in poi si dava per condannato a un bagno di sangue e a uno scontro all'ultimo sangue tra bianchi e neri, invece si ricompone. Questo obiettivamente, se Sudafrica di oggi esiste, è perché in quel giorno è successo quello che questa foto descrive». «Però, pensando al Sudafrica che sognava Mandela, no? In quel giorno lì magari Mandela andava al voto e lui votava per la Nazione Arcobaleno, per la Rainbow Nation, quella in cui tutti stavamo insieme». «Diciamo che la Nazione Arcobaleno è ancora l'unica via e anche il sogno unitario del paese. È un sogno che, come molti sogni, si è dimostrato molto più difficile e molto più complicato da conseguire». «Possiamo dire che è tipo downloading, cioè piano piano, ecco sta arrivando forse, ma ancora il percorso c'è da fare». «Sì, sì». Mandela certamente ha lasciato un'eredità politica tramite il suo partito, il partito che adesso, guardate questa torta di compleanno che è in basso a destra nella foto, 106 anni ha compiuto l'Africa National Congress. In tutta l'Africa non ci sono dei partiti di liberazione nazionale così longevi. A sinistra c'è l'invito per festeggiare il 106 anniversario dell'Africa National Congress. Una volta Zuma, l'ex presidente, disse «Ma noi governeremo fino a quando tornerà Gesù». Quindi diciamo che avevano progetti a lungo termine. «Sostengono alcuni, sì, ma questo non è più l'ANC di Mandela, questo è diventato un blocco di potere. Lei che dice?» «È in parte vero. Diciamo che quella data lì, impressione in Africa, ma ci sono tanti partiti socialisti europei che vantano la stessa età». «Sì, in Europa». «Diciamo che è sui vent'anni al potere che impressionano oggi e probabilmente sono quelli che hanno logorato lei in sì. Qualcuno diceva che il potere logora, è certamente vero. Nel senso che la mancanza di alternanza, la mancanza di sostituzione tra diversi partiti nei ministeri importanti dove vengono distribuiti soldi, appalti, eccetera, lascia il segno in termini di corruzione e di cattive pratiche. È vero anche che l'ENSI è probabilmente ancora oggi insostituibile in un paese che è intrinsecamente diviso tra mondi diversi, anche se c'è una volontà di collaborare. L'ENSI ha una sua formula in qualche modo per cui riesce a tenere insieme la maggioranza nera e a tenerla in qualche modo in una relazione costruttiva col mondo dell'economia». «Scusi, domanda secca. Bianchi che votano per l'ENSI ce ne sono?» «Pochissimi, ma bianchi che in realtà sono contenti che ci sia in sella l'ENSI invece di altri partiti più radicali, moltissimi». «Sono contenti». «Bianchi e neri», abbiamo detto. E guardate, a ripeterlo adesso, a noi forse fa un certo effetto, però non fa effetto in Sudafrica, perché uno dei temi principali di questa fase politica riguarda proprio la redistribuzione della terra. L'abbiamo sentito nella copertina anche di Solen De Luca e l'abbiamo detto anche nei dati iniziali. I bianchi sono circa l'8% della popolazione, ma tra società e individui bianchi che posseggono la terra il 72% delle terre. Ora, c'è da capire se la terra serve o non serve e ne parleremo, ma certamente il simbolo della terra è molto importante. E allora da qui, da questo dilemma della terra, inizia il reportage dal Sudafrica di Lorenzo Simoncelli. 24 anni dopo la fine dell'apartheid, la popolazione nera del Sudafrica torna a riempire le strade del paese. Molte delle promesse fatte dall'Africa National Congress, il partito che li aveva liberati dal regime segregazionista bianco, non sono state mantenute. Una su tutte, la restituzione delle terre sottratte dai colonizzatori bianchi, a metà del Seicento. Dal 94 ad oggi il governo ha redistribuito solo il 10% delle terre coltivabili in possesso della minoranza bianca. Un processo troppo lento che, insieme alla scarsa costruzione di case popolari, ha portato alla nascita di partiti e movimenti populisti in grado di togliere voti all'Africa National Congress, cavalcando la rabbia dei più poveri con slogan che mettono a rischio la coesione sociale del paese. Giulius Malema, leader massimo degli Economic Freedom Fighters ed ex guida dell'ala giovanile dell'Africa National Congress, lo ha capito prima di tutti ed oggi, con soli 25 seggi in Parlamento, determina l'agenda politica del Sudafrica. Dietro le dimissioni forzate dell'ex presidente Zuma e la proposta di legge della riforma agraria che prevede l'esplorazione delle terre ai bianchi senza compensazione, c'è il suo zampino. Anche i bianchi fanno parte di questa terra, sono nostri vicini, ma devono condividere la terra con noi. L'unico problema che abbiamo con loro è che la vogliono tenere tutta per loro. Chi è ereditato le proprietà agricole dalle mani insanguinate dei colonizzatori, senza tra l'altro averle mai pagate, non vuole scederle, supportate anche dalle politiche segregazioniste dell'apartheid. Noi vogliamo nazionalizzarle per dare a tutti i sudafricani uguale accesso ai beni del nostro paese. Oggi non è ancora possibile perché il 70% delle terre continua ad essere nelle mani di pochi privati. Ben Cousins da quasi 30 anni si occupa del tema della terra in Sudafrica. Ha scritto libri ed ha fondato un istituto di ricerca. Il concetto di espropriazione della terra senza compensazione è stato introdotto dal partito di estrema sinistra fondato da Julius Malema per guadagnare voti alle prossime elezioni, ma non risolve i problemi principali, ossia chi deve ricevere i terreni, come devono essere usati e come aiutare i nuovi proprietari per renderli produttivi. L'espropriazione potrebbe rallentare il processo di redistribuzione della terra, perché chi la detiene farà ricorso ai tribunali. Sarebbe più pratico che lo Stato negoziasse l'acquisto di una parte della proprietà, a prezzi di mercato o inferiori, direttamente con i proprietari e poi procedesse a redistribuirla. Vogliono toglierci la terra, ma chi la daranno? Ho paura che si trasformi in una disputa tra chi già detiene il potere. In Sudafrica ci sono 30.000 contadini, ma se le proprietà agricole vengono spezzettate, c'è il rischio che perdano competitività. Se si procedesse con l'espropriazione della terra, il rischio di insicurezza alimentare aumenterebbe. Coltivare oggi è un lavoro complesso che richiede conoscenze tecniche. Fino ad oggi i dati dimostrano che il 90% delle proprietà restituite agli agricoltori neri sono improduttive. La storia non si può cambiare. I bianchi hanno costruito il Sudafrica, siamo orgogliosi del contributo che abbiamo dato. E anche se ci vogliono mandare via, resisteremo. Noi siamo sudafricani, siamo nati e cresciuti qui. È il nostro paese. Giovanni Scribante, agricoltore bianco di origini italiane, ogni mattina si reca nella sua proprietà ad un'ora di macchina dalla capitale pretoria. Un'azienda agricola comprata ad un'asta quasi 30 anni fa, dà lavoro a 12 braccianti neri e coltiva erba da giardino che poi rivende all'ingrosso. Mi racconta le sue paure. Sono cresciuto su questa terra, l'ho ereditata dal mio bisnonno. I miei antenati sono sepolti qui, per questo sono molto legato a questo posto. Non accetterò di restituire questa terra. Perché lo dovrei fare? Non abbiamo mandato via nessuno da questa proprietà e già in passato è stato notificato dall'autorità che nessuno ha mai richiesto questa terra. Non lo posso accettare e lotterò fino alla fine. Il 93% delle persone che aveva diritto alla restituzione della terra ha preferito essere ricompensata in denaro. Quindi non capisco i politici che continuano a dire che la gente è affamata di terreni agricoli. Dove sono queste persone? Perché bisogna procedere all'espropriazione della terra senza compensazione se la gente vuole solo i soldi. In realtà non è proprio così, perché la domanda di terra in Sudafrica è molto alta, nelle zone urbane ancora di più che in quelle rurali. Milioni di persone vivono ancora in baracche, vogliono case popolari e le occupazioni di solo pubblico sono all'ordine del giorno. Qui c'è una povertà estrema, se non hai un pezzo di terra non è niente. Guarda, non si può vivere in un posto come questo, uno sopra l'altro. Stiamo occupando per dare a qualcuno la possibilità di venire da questa parte che è meno congestionata. In questa baracca vivono in otto, quattro bambini e quattro adulti. Li stiamo aiutando a costruirne un'altra, così avranno più spazio. Zanelle Luana è una delle fondatrici del partito che ha messo al centro del suo manifesto politico, la lotta per la terra. La maggioranza delle terre è ancora nelle mani della minoranza dei colonizzatori bianchi, che continuano a dominare anche la nostra economia. Per questo motivo metà della popolazione nera, ossia circa 30 milioni di sudafricani, vive ai margini della società, sotto il livello minimo di povertà. Stiamo mobilitando la popolazione per occupare le terre e resisteremo ai tentativi della polizia di smantellare quanto stiamo costruendo. A Cagliallicia, township alle porte di città del Capo dove vivono un milione di persone, la situazione è ormai esplosiva. Le baracche vengono distrutte con violenza, la gente scappa inferocita. In pochi istanti un cubo di lamiera chiamato casa non esiste più e non resta che la disperazione. Alcuni occupano abusivamente, altri non hanno i titoli che dimostrano la proprietà terriera. Uno dei temi cruciali che sta provando a risolvere il principale partito d'opposizione del paese e che da sempre governa città del Capo. L'Africa National Congress sta cercando di nascondere i fallimenti del passato e, dato che fra un anno ci sono le elezioni, sta tentando di convincere la popolazione più svantaggiata che questa volta manterrà le promesse. Ma non sarà così. Fin qui, la ANC non è stato in grado di gestire la ridistribuzione delle proprietà a causa dell'elevata corruzione all'interno dei ministeri. Spesso i prezzi delle tenute agricole sono stati gonfiati, hanno costruito le case popolari e le hanno date a chi ne aveva fatto richiesta, ma non gli hanno consegnato l'atto di proprietà. Così, adesso, i residenti non possono provare che sono davvero loro i proprietari. Dove governiamo noi? Abbiamo distribuito 80.000 certificati di proprietà, ma se la riforma della terra verrà approvata, anche loro sono a rischio, perché ci sarà una nazionalizzazione di tutti i beni privati e questo sarebbe un grande passo indietro per il nostro paese. L'elezione di Siri Ramaphosa, prima alla guida dell'Africa National Congress e poi alla presidenza del Sudafrica, ha ridato lustro ad una formazione politica oscurata da nove anni di presidenza Zuma, che hanno lasciato ferite profonde nel partito e nel paese. L'ex pupillo di Mandela, più popolare tra i salotti buoni sudafricani che nelle strade della nazione l'arcobaleno, ad un anno dalle elezioni dovrà fare l'equilibrista, cercando di venire incontro alle richieste pressanti della popolazione, senza cedere il fianco ai partiti estremisti che vogliono nazionalizzare il paese, un'ipotesi che aprirebbe scenari incerti. Si dunque alla riforma della terra, ma con criteri precisi. La restituzione della proprietà è stata lenta, ma adeguata se si considera che molti hanno preferito avere una ricompensa in denaro piuttosto che la terra. L'Africa National Congress ha deciso di accelerare il processo di redistribuzione, ma non mettendo a rischio la produttività agricola e la coesione sociale. Alcune terre saranno espropriate, ma attraverso una selezione precisa. L'elettorato dell'Africa National Congress è pronto per Ramaposa. A lui toccherà non frantumare l'ultimo sogno rimasto alla generazione che ha sofferto la segregazione razziale. Dunque qui addirittura Lorenzo Simoncelli parla della terra, della restituzione come un sogno. In realtà io poi guardando adesso il reportage glielo commentavo. Dicevo ma come fanno questa storia per la terra per metterci poi una baracca dentro? Cioè non è che la coltivino? No, in realtà la questione della terra è giusto quella chiusa del servizio che è ben fatto. È una questione storicamente importante, quindi carica di aspetti simbolici, perché il Sudafrica è stato un paese agrario in cui i bianchi e i neri hanno lottato per la terra e i bianchi hanno vinto con la superiorità anche della loro agricoltura, oltre che della propria forza militare politica. Quindi è un fattore simbolico, primo punto. Però scusi aspetti, economicamente, quanta è l'agricoltura sul PIL del Sudafrica? È molto poco, cioè meno del 3% e la popolazione impegnata nel settore agricolo è il 9%, cioè quasi a livelli europei. Quindi tutta questa battaglia economica sulla terra, in realtà tant'economica, non è. Infatti è forse anche per questo che può anche dispiegarsi così senza che ci siano timori così profondi per l'economia sudafricana. Vedremo ci sono altri paesi in cui invece è stato diverso. Ma è simbolica perché entrano in gioco due cose. Per i bianchi il diritto a esserci. Gli agricoltori bianchi dicono noi, se cacciano via noi, come dire che i bianchi non dovrebbero essere qui, non hanno... Invece abbiamo diritto, abbiamo portato know-how, eccetera, eccetera. Siamo qui da generazione. Se il Sudafrica oggi vende dei vini anche per merito nostro, e così via. Mentre per i neri è simbolica in un altro senso. I nostri nonni sono stati cacciati da queste terre. Voi ci avete tolto la terra, adesso ci dovete quali modi compensare. Noi viviamo in città oggi, ma viviamo in città sempre con case come quelle che abbiamo visto e quindi continuiamo a sentirci ospiti a casa nostra. Quindi sono due punti di vista, come dire, tutte e due anche comprensibili, diciamo così, ma che hanno non soltanto a che fare con l'economia. Le faccio vedere una foto particolare rispetto ai nostri cliché. È particolare, non è particolare in sé. Il proprietario è il signore sulla destra, cioè il signore nero, e invece il dipendente è il signore bianco. Stanno lavorando alla terra, hanno con ogni probabilità una azienda. I neri hanno bisogno dei bianchi e se lavorassero insieme forse sarebbe un paese migliore il Sudafrica, o no? E in parte il Sudafrica già adesso si regge su questo, cioè su questa coesistenza di fatto tra i bianchi e i neri. Questo tipo di situazione è comune, nel senso che qua è riferimento alla terra e a questa novità anche prevista, almeno nella distribuzione della terra, ma anche nel settore statale è molto comune. Il numero 1 nero che si avvale di un numero 2 bianco, che di fatto è il suo consigliere speciale, che ha magari uno stipendio più basso, ma gli fornisce quel know-how che permette al Sudafrica di essere un paese africano diverso dagli altri, come avete giustamente detto, cioè con un sistema bancario, infrastrutture, università, telecomunicazioni di un livello che è quasi europeo e che è la sua forza, perché Sudafrica non è grandissimo e non è soprattutto popolato così tanto rispetto ad altri paesi africani, ma è un paese guida dal punto di vista del know-how che contiene, in buona parte grazie alla presenza dei bianchi. C'è stato un paese accanto al Sudafrica che ha risolto il problema bianchi e neri, secondo me, in maniera peggiore, col populismo puro, è lo Zimbabwe di Mugabe. Mugabe è tra i due che stanno blindando quello di destra con la cravatta blu e invece quello di sinistra è Zuma. La cosa particolare di questi due ormai ex-presidenti è che Mugabe è stato fatto dimettere in Zimbabwe a novembre 2017 e due mesi dopo, a febbraio 2018, è stato fatto dimettere in Sudafrica Zuma. Quindi possiamo dire di due paesi che hanno percorso un pezzo di strada insieme e che adesso il Sudafrica rischia anche di fare la fine dello Zimbabwe o no? Diciamo che l'osservazione è giusta, sono due leader, forse gli ultimi due che hanno sfidato anche così direttamente l'opinione pubblica internazionale, anche i mercati finanziari, perché ricordiamo che l'Africa, come in molte parti del mondo, è anche un continente in cui molte cose non si decidono ma vengono in qualche modo suggerite anche da Economist, Financial Times, eccetera. Per cui diamo anche qualcosa, questo spiega anche il seguito che hanno avuto questi personaggi. Però sono usciti di scena di fatto nello stesso momento, in un momento in cui l'Africa probabilmente è alla vigilia o nel corso di una transizione. I due paesi peraltro sono anche diversi, perché quel dato che avevamo visto prima, 2,5% di contributo all'agricoltura al PIL, in Zimbabwe sale al 20%, 9% di popolazione attiva nell'agricoltura, 60%. Quindi diciamo che in Zimbabwe il problema della terra era veramente il problema della terra, invece in Sudafrica, come diceva lei, è più un problema simbolico che non... Sì, è vero che lo Zimbabwe è l'altro paese in cui c'era una componente di agricoltura commerciale in mano a coloni bianchi rimasti, l'altro paese oltre Sudafrica era lo Zimbabwe. Per cui in qualche modo è sempre stato visto un po' come il gemello o l'anticamera di quello che potrebbe succedere a Sudafrica. Speriamo che davvero il Sudafrica non faccia la fine dello Zimbabwe e se non lo farà, molto si dovrà anche a questa fase politica che si è aperta. Il Presidente, quello che vediamo adesso, l'abbiamo visto anche nella copertina di Solende Luca, Cyril Ramaposa. Allora lui era molto vicino a Mandela per un buon periodo. Adesso è diventato Presidente, che persona è? Secondo lei è giusto avere fiducia in lui o no? Ma io credo di sì, alla fine. I Sudafricani, sia bianchi che neri, tendono ad averla. Questo è un po' il mood, un po' strano che si sente nonostante tutto questo parlare di questo tema caldo, simbolicamente così delicato come la redistribuzione delle terre, su cui lui ha aperto una porta importante. Però è un mediatore, lui era, diciamo, diventato celebre da giovane come mediatore tra industriali bianchi e sindacati neri e poi come capo del team dei negoziatori all'epoca dell'incontro tra Mandela e De Klerk. Poi parte, si fa una carriera come businessman nel privato e ora torna di fatto con un'aspettativa di un Presidente riconciliatore, cioè capace di dare a ciascuno la soddisfazione e l'attenzione che ci vuole, comprese anche le istanze del Sudafrica nero più diseredato che è dietro a questa rivendicazione della terra e che soffre, perché obiettivamente la crisi economica degli ultimi anni ha colpito duramente il Sudafrica povero. Ecco, proprio di questo, guardia, volevo chiederle qualche parola in più. Quando si pensa all'economia sudafricana e la prima cosa che uno si trova di fronte a questa diseguaglianza spaventosa nei dati iniziali, dicevamo che l'1% della popolazione ha più del 70% delle ricchezze, uno istintivamente se la immagina ricchi uguale bianchi, poveri uguali neri. Cioè è ancora così? La ricchezza è ancora una questione di razza? Scusi la parola razza che chiaramente non è il mio modo di pensare, ma quello che si dice, voglio dire una questione etnica, una questione di colore della pelle? Allora, in parte sì, però i confini sono sfumati molto. Si può dire che il Sudafrica è ricco, che tra l'altro è comunque un 15-20 milioni di abitanti che formano un mercato, anche dal punto di vista dei consumi, paragonabile ai paesi occidentali. Prima era tutto bianco, adesso non è più tutto bianco, adesso c'è una componente di ricchi sudafricani e di classe vita sudafricana molto visibile, a Johannesburg è visibilissima e molto importante. Il Sudafrica povero resta ancora prevalentemente nero, ma non c'è più quella sicurezza che essere bianchi, voglio dire, non scivolare nella povertà. Quindi ci sono anche dei bianchi che se la passano male e per fortuna ci sono anche dei neri che pian piano cominciano a passarsela bene, quindi è stata un po' derazializzata, se vogliamo dirla così. Secondo alcuni sono addirittura i bianchi a essere più danneggiati oggi dalle politiche del governo e questi alcuni sono gli abitanti di Kleinfontein. Kleinfontein cos'è? È un'esperienza incredibile a vederla e la vedremo adesso, è una comunità chiusa in cui abitano soltanto gli africaners ed è lì che ci porta ora Lorenzo Simoncelli. Suona la campanella, si arriva a scuola, chi a piedi, chi accompagnato, chi in bici. Due chiacchiere con i compagni prima di entrare in classe e poi via le lezioni. Fin qui niente di strano, poi osservando la lavagna incominciano ad emergere scritte in africans, la lingua dei coloni olandesi, arrivati in Sudafrica a metà del Seicento. In classe ci sono solo bambini bianchi, nessuno parla inglese e la nazione arcobaleno sognata da Mandela. Qui non sembra essere di casa. Siamo a Kleinfontein, a soli 30 chilometri dalla capitale pretoria. Qui è sorta un enclave di 1500 sudafricani di origine boera, che ha voluto costruire una comunità dove si può accedere solo se si condividono i valori della cultura africans. Educhiamo i nostri bambini ad essere dei veri africaners, mettendo al centro le nostre tradizioni e il cristianesimo. La storia ha un grande valore per noi, in particolare la colonizzazione di città del capo da parte degli olandesi. Spieghiamo anche il ruolo di Nelson Mandela, ma per noi è secondario. Nelle scuole statali invece si enfatizza solo il ruolo di Mandela, mentre le vicende dei colonizzatori olandesi vengono omesse. Solo per il fatto che l'istruzione in africans lo Stato non sovvenziona questa scuola. Non vogliamo che i nostri bambini dimentichino le loro origini. Danny De Beere, guida ufficiale di Kleinfontein, mi porta a visitare la comunità. I nomi delle strade sono rigorosamente in africans, le case ordinate e pulite. Chi non lavora si ritrova al bar per un caffè. Davanti all'ingresso troneggia la lapide che commemora l'arrivo dei colonizzatori Boeri ed il busto di uno degli architetti dell'Apartheid. Il suo piano era quello di costruire uno Stato indipendente solo per gli africaners, con una propria bandiera ed un inno, ma purtroppo non è andata così. Dopo aver erroneamente implementato l'inumana e inerrata segregazione razziale dell'Apartheid, è stato assassinato e noi siamo rimasti senza tutele. La nostra lingua non è parlata in Parlamento ed è vietata nelle scuole. Non abbiamo una bandiera che ci rappresenta. Se Forwurt avesse realizzato il suo progetto di creare stati indipendenti in Sudafrica, su base etnica, oggi non mi sentirei come uno straniero nella mia terra. Se in Sudafrica la maggioranza della manovalanza è nera, a Claymfontein anche i lavori più umili vengono svolti dagli africaners. Secondo Danny, la commissione tra diverse razze è quello che ha portato il paese a collasso. Claymfontein è di proprietà degli africaners. Sono loro che la stanno costruendo. Qui non ci sono altre etnie nere come i Xhosa o gli Zulu che lavorano per le strade. Qui ci sono solo africaners. Quando si è instaurato il sistema democratico nel 1994, tutti pensavano che avrebbero avuto l'opportunità di scegliere che ruolo ricoprire nel nuovo Sudafrica. Ma non è andata così. Al contrario, un ristretto gruppo di persone si è appropriato del futuro del nostro paese. Abbiamo perso tutti perché nessuno di noi è libero. Noi africaners non riceviamo i privilegi che i neri hanno dal governo, interessato solo ad arricchirsi rubando le ricchezze del paese. L'unico modo per risolvere la questione è attraverso la formazione di uno Stato confederato, così che ognuno avrà il suo pezzo di torta. Voglio essere governato dalla mia, gente. Voglio seguire le nostre reggi e parlare la mia lingua. Desidero che i miei figli parlino africans. Invece siamo obbligati a stare insieme. Penso che ormai la rivoluzione sia vicina. Se il prossimo anno, dopo le elezioni, le cose non andranno per il verso giusto, il Sudafrica esploderà. Anche a Clemfontein ci sono famiglie povere, in attesa di avere una casa dignitosa. Catrina, con i suoi tre figli ed il marito, vive da cinque anni in una roulotte malconcia e sta aspettando che la comunità l'aiuti prima dell'arrivo dell'inverno. Non ricevendo fondi dallo Stato, gli ammortizzatori sociali sono garantiti dagli abitanti dell'Enclav e da donazioni che arrivano da tutto il mondo, anche dall'Italia. Ci sono molti problemi, non solo nella popolazione della maggioranza nera, ma anche in questa piccola minoranza degli africaner, in quanto non sono proprio supportati nel vivere la loro cultura e la loro lingua da parte del governo. Questa minoranza degli africaner, praticamente nessun amico al mondo, o quasi nessuno che pubblicamente esprima il proprio sostegno a questa minoranza, perché c'è sempre ancora questa eredità dell'apartheid. Chi ha vissuto quegli anni oggi si gode la pensione. Il nuovo Sudafrica non li riguarda e non sembrano essere preoccupati, ma le voci di una possibile espropriazione delle terre sono arrivate anche a Clemfontein. La comunità è una banca che detiene i diritti di questa terra, dato che molti hanno comprato casa facendo mutui. Se si procederà all'espropriazione della terra senza compensazione, la banca andrà in banca rotta. Sono arrabbiato ed incredulo, perché non capisco come si possa decidere di portare un paese al collasso. Ma noi non abbiamo paura, perché non credo che nessuno avrà il coraggio di affrontare 1500 persone boeri. Ad AfriForum, un'organizzazione che lavora per tutelare la minoranza degli africaners in Sudafrica, hanno già comunicato che in caso l'espropriazione senza compensazione diventi effettiva, si presenteranno alle Nazioni Unite. Quando mi domandano perché noi africaners ci isoliamo dalla società, rispondo spiegando quello che sta succedendo in Sudafrica. La Corte Costituzionale si è pronunciata dicendo che l'Africans non dovrebbe più essere usata come lingua di insegnamento. L'ex presidente del paese cantava canzoni che inneggiavano all'uccisione dei boeri. In Parlamento si sta discutendo una legge per espropriare le terre ai bianchi come se fossero criminali. Ci sono campagne per vandalizzare le statue o i monumenti che ricordano la storia degli africaners. Gli agricoltori bianchi vengono torturati e uccisi nelle loro proprietà e il governo fa finta di niente. Questo è quanto sta succedendo. Quindi non siamo noi a volerci isolare, ma è il contesto che ci costringe a farlo. Tutti i proprietari terrieri bianchi sono etichettati come ladri, anche se hanno comprato onestamente il terreno agricolo. Solo per il fatto di essere bianchi veniamo considerati ladri. Crediamo che questa ideologia politica sia molto pericolosa e che contribuisca ad alimentare tensioni razziali. Detto fatto, per la prima volta nella storia del Sudafrica democratico, una donna è stata condannata a due anni di carcere per aver insultato un poliziotto nero, con termini giudicati irrispettosi e razzisti del magistrato. La riforma della terra si sta trasformando in una bomba sociale ad orologeria che potrebbe andare a riaprire delle ferite mai completamente rimarginate. Il Sudafrica è stato da poco etichettato come la società più inuguale al mondo. Servono soluzioni immediate. Le classi sociali svantaggiate in Sudafrica sono frustrate. Gli sono state fatte molte promesse in 24 anni. Ma per la maggior parte di loro la vita è rimasta uguale e stanno iniziando a perdere la pazienza. Questa situazione può diventare pericolosa. Ma credo anche che ci sia ancora tempo per rimediare, soprattutto dopo la nomina del nuovo presidente Ramaposa. La nostra soluzione è creare delle partnership in cui coloro che già detengono le terre, quindi principalmente agricoltori bianchi, condividano la terra con la forza lavoro, ossia la comunità di contadini neri che non solo lavora, ma anche viva all'interno di quelle proprietà. Si deve realizzare uno schema in cui entrambe le parti abbiano partecipazioni nell'azienda agricola. Il 30 agosto si deciderà se cambiare la Costituzione e procedere all'espropriazione delle terre. Quella data potrebbe dire molto sul futuro del Sudafrica. Un paio di scadenze ci sono, questo 30 agosto per la Costituzione e il discorso delle terre e poi tra un anno esatto, secondo me veramente sarà tra un anno esatto le elezioni. La cosa che ho capito da questo reportage è che non tutti i bianchi sono ricchi, l'abbiamo detto anche prima, e che forse tra i bianchi, cioè quelli che vengono dalla Gran Bretagna e quelli che vengono dall'Olanda, quelli che stanno peggio sono i boeri. E' sempre stato così. E' sempre stato così. Erano quelli di campagna e quelli che hanno subito di più anche la concorrenza di neri, la concorrenza tra poveri che è tipica poi di tutte le situazioni in cui le risorse sono scarse. Senta, abbiamo in travista, vorrei che si rivedesse ancora una foto di una roulotte, ma d'altra parte insomma anche nel reportage di Lorenzo Simoncelli avevamo visto una famiglia intervistata, no? Sono quelli che vivono dentro Claymontein facendo la fame. Allora io mi dico ma devi essere proprio ideologicamente malato, scusi la cosa, se preferisci stare in un ghetto facendo la fame piuttosto che da altre parti. Perché devo andare a vivere lì dentro? Ma è più, diciamo, rispetto a esperienze simili negli Stati Uniti che nascono magari da esperienze religiose, evangeliche o settarie, qua l'ideologia conta meno della cultura e del legame forte che gli africani hanno con la loro cultura e con le proprie radici. E' unito anche al fatto che gli africani essendo più poveri, sanno meno bene l'inglese ad esempio, sono anche quelli che hanno più bisogno di, in qualche modo, della solidarietà e del sentirsi a casa propria. C'è quindi una scelta che è anche di tipo culturale. Lei sta dicendo che dopo 400 anni ancora non hanno imparato l'inglese? No, io dico che se uno ha una lingua e una cultura e la può continuare... E vabbè, ma vivi in un posto e studierai pure la lingua dell'uomo. Sì, sì, ma questo fanno. Però diciamo che è una... la metto più in termini positivi, cioè non sono singoli migranti, sono anche un popolo. E quindi un popolo che è attaccato alla sua lingua, alla sua cultura e anche alla sua religione. Allora, lei ha detto che non sono tanto ideologizzati, è un problema culturale. Allora, si ricorda quello che ha detto il barista di Clemfontein dentro al reportage? Eccolo qua. Mi ricordo la faccia e mi ricordo anche le parole. Cioè lui dice, allora, l'unica possibilità è uno Stato confederato. Io voglio vivere sotto le mie leggi. Se non ci sarà questo, se le elezioni non andranno bene, qui scoppia una rivoluzione. Allora, guardandolo pure col cappelletto in testa, mi è venuto in mente i famosi redneck degli Stati Uniti, no? Quelli in Texas, i bianchi arrabbiatissimi con tutti, eccetera. È un pazzo lui scatenato o veramente rappresenta qualcosa lui dal punto di vista culturale? Diciamo, la terza affermazione che scoprirà la rivoluzione, la risposta è certamente no. Quindi la rivoluzione è una fesseria. Ma anche perché degli africaner, che sono quasi più o meno a metà dei bianchi, quelli che fanno questa scelta sono una piccolissima minoranza. E minoranza che, tutto sommato, è ai margini anche della società bianca. Per cui diciamo che non è assolutamente un'opinione dominante. Quindi è il pazzo scatenato, cioè nel senso che lui è un pazzo scatenato. Beh, diciamo che è più parte di una periferia anche del Sudafrica bianco. Certe volte, quando si va nelle periferie, si sentono affermazioni forti. Però il Sudafricano bianco medio non ti direbbe mai che vogliamo uno Stato confederato. Beh, perché il Sudafricano bianco medio magari ha uno stipendio di ottimo livello grazie all'università che ha fatto, magari grazie a serie di lingua inglese, ai viaggi e ai titoli di studio che si è guadagnato in Inghilterra e negli Stati Uniti, non ha paura di nessun nero, perché nessuno può occupare il suo posto. Lui, che probabilmente è un operaio, da questo punto di vista qui si sente più precario. Certo, quello che diceva lei poco fa, dicendo che i boeri sono quelli che hanno vissuto più la concorrenza dei neri, quindi si sentono più minacciati. Sono quelli che oggi diremmo più populisti, no? Nel senso che il populismo è anche spesso la protesta di qualcuno che è ai margini e che si sente... Certo, minacciato, il famoso desiderio di protezione di cui la politica ha parlato anche recentemente. A proposito di populismo, c'è un paese che ha raccolto molto bene questo grido dei bianchi sudafricani, che è l'Australia. L'Australia dove governa la destra e Peter Dutton, che è quello a sinistra, l'attuale ministro degli interni australiano, ha fatto una proposta che è stata condivisa anche dall'ex primo ministro australiano John Abbott, che è quello a destra, ha detto noi dovremmo dare l'asilo politico ai proprietari terrieri bianchi australiani perché sono perseguitati. Anche nella copertina l'abbiamo sentito, poi in realtà ci sono state due richieste di asilo e per ora sono state bocciate. Anche questa, secondo lei, è buttata perché si soffia sul fuoco o c'è una persecuzione politica che veramente si può individuare ai danni dei bianchi in Sudafrica? In Sudafrica è un paese di diversità e di tensioni e quindi che ci sia qualcuno vincitore e perdenti in qualsiasi scelta è, ahimè, fisiologico, per cui non arriverei a sottoscrivere questa affermazione. In più, gli australiani hanno anche loro una loro storia, quella dell'Australia bianca, di difesa, soprattutto che la destra ancora promuove, di difesa del carattere europeo dell'Australia. C'è tutto questo retroterra in questa uscita, che tra l'altro comunque sottolinea il fatto che l'Australia è già la destinazione preferita dai farmer bianchi che scappano e decidono di lasciare il paese, perché trasferisce le competenze dell'agricoltura in zone, appunto, di vista... Ah certo, territorio ce n'è, parlano la stessa lingua, se quando parlano l'inglese... Anche a punto di vista delle temperature e del tipo di colture, per cui l'Australia in realtà ambisce anche avere più agricoltori africani, a Perth per dire, l'Australia occidentale è una meta in cui già ci sono molti africani. La prossima foto mi piace moltissimo, ed è una produttrice di vino, anzi, credo che sia la più famosa produttrice di vino nera in Sudafrica, si chiama Nsiki Biela, apro e chiudo parentesi, il Sudafrica è fra le dieci nazioni del mondo che producono più vino, però il 98% dei produttori di vino in Sudafrica è bianco. La domanda è, arriverà un giorno in cui in Sudafrica il colore della pelle sarà un dettaglio? Sicuramente sì, perché nella storia è sempre successo, le razze umane sono, come dire, quando entrano in contatto si fondono. Probabilmente non sarà domani. Scusi, lei dice razze umane, io dico sempre che lo usiamo come paradosso. Sì, 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 perché in Sudafrica, in Sudafrica, siccome il termine è... Racist, vabbè, perché è l'inglese, naturalmente, certo, quindi la provenienza. Ma questo va anche per le culture e i gruppi razziali o population groups, come vengono chiamati in Sudafrica, più che in America, riflettono anche culture diverse, culture con radici profonde. Quindi lei dice, sì, può darsi che diventi un dettaglio, però sarà sempre più probabile che i bianchi facciano vino perché sono quelli che l'hanno storicamente imparato. Diciamo sempre no, però per un po' sì, perché la cultura del vino, per esempio, francese e italiana che si è trapiantata soprattutto nella parte occidentale del Sudafrica è una tradizione. Sì, ho capito. Però tutti i confini sono fatti per essere fine superati e questo succederà. Dal vino all'acqua, per una domanda che non c'entra nulla ma che davvero ci incuriosisce molto proprio in redazione perché Città del Capo è stata dichiarata la prima città del mondo senza acqua. Ora non è ancora senza acqua, però ogni volta si dice day zero, day zero, ogni volta il giorno zero arriva, arriva, arriva e già due, tre, quattro volte l'hanno spostato, adesso credo che sia nel 2019, è il giorno in cui rimarrà senza acqua. A destra trovate una brochure, diciamo, da parte del governo locale in cui dice attenzione questo è il modo in cui dovete consumare l'acqua. Allora, la lavatrice, 10 litri, non di più, la doccia, 10 litri, non di più, la pulizia di casa, 5 litri, non di più. A sinistra vedete una fila per l'acqua. Secondo lei è un allarme reale, visto che ci va sempre, insomma, o è un allarme più mediatico? Poi vado sempre a Cape Town, per cui... Conosce bene la situazione. No, diciamo che l'allarme c'è come c'è, adesso il paragone lo possiamo riproporre con l'Australia, cioè sono, diciamo, il global warming ha messo in difficoltà le zone temperate del sud del mondo, e non solo del sud del mondo, più di quanto non fosse 20 o 30 anni fa, e il Sudafrica nord-occidentale dove c'è Cape Town è un'area che è a rischio, come è a rischio la zona di... l'Australia sud-orientale dove ci sono Sydney e Melbourne. Quest'anno si è andati vicino, ma in realtà poi non ci si è arrivati a quel day zero, ed è stato anche interessante vedere come il Sudafrica ha mostrato la sua capacità di collaborazione nella differenza, nelle politiche, di cui questa immagine è un esempio, che sono state proposte dal governo locale. Di fatto il grado di collaborazione è stato molto alto, come in tutti i momenti in cui l'Africa ha fatto squadra. Quindi è servito l'allarme perché hanno migliorato il comportamento rispetto all'altro. Poi c'è anche un aspetto, cioè che il Sudafrica è un luogo in cui primo e terzo mondo si incontrano, vuol dire che anche la sensibilità ecologica e le competenze, le sviluppate nel primo mondo, incontrano il bisogno profondo che ha l'ambiente, specie dove l'ambiente è anche legato alla povertà. Abbiamo detto molte cose, ma come spesso facciamo, l'ultima parola la lasciamo all'autore del reportage, Lorenzo Simoncelli. Riuscirà Sirri Ramaposa a riportare il Sudafrica sulla retta via e ridurre le disuguaglianze sociali che caratterizzano questo paese? L'ex braccio destro di Nelson Mandela è l'ultima carta che l'Africa National Congress, il partito che guida il Sudafrica da 24 anni, ha deciso di giocare. Toccherà a lui cercare di rimettere insieme i cocci di un partito e di una società fortemente divise dopo gli anni della presidenza Zuma e soprattutto mettere a tecere le critiche e le proteste che ormai quotidianamente si verificano nel paese. La popolazione è stufa, in particolare gli elettori dell'Africa National Congress, un partito che probabilmente ha goduto un po' troppo di rendita per quanto fatto durante gli anni dell'apartheid. Milioni di persone ancora vivono in baracche, non hanno servizi basici come acqua e luce e quindi scendono per le strade per protestare. Chiedono un cambiamento soprattutto i giovani, quella generazione di cosiddetti born free, ossia i ragazzi e le ragazze nati dopo il 1994 e che quindi non hanno vissuto sulla loro pelle gli anni dell'apartheid. Vogliono scrivere un nuovo capitolo in questa storia di questo paese e lasciarsi alle spalle per sempre gli anni duri dell'apartheid. Grazie a Lorenzo Simoncelli. L'ultima domanda che facciamo all'ospite è generalmente una domanda privata, con foto privata. E la foto che lei mi ha portato, credo che sia una foto familiare, perché adesso lo vediamo, ha in braccio un bimbo che suppongo sia il suo figlio. Uno dei miei. E dove eravate qui? Eravamo a Stellenbosch, che è vicino a Cape Town. Ah, quindi è sudafricana anche la foto? Sì, sì, sì. È rimasto in tema. Quello che non è rimasto uguale è il figlio che adesso ha 18 anni e non mi starebbe in Forse è lui che la prende in braccio. Invece l'altro mio amico, che si chiama Johan Botta, che purtroppo è scomparso un anno e mezzo fa, ma è pastore nella chiesa riformata africaner. Ma legatissimo lui e suo padre e tutta la sua famiglia invece ai meticci, i colored, che sia lui che suo padre hanno difeso durante tutto il periodo dell'apartheid, schierandosi contro le leggi dell'apartheid, ma senza mai rinnegare le proprie radici. E l'amicizia con lui e con la sua famiglia mi ha aiutato molto a capire sia gli africaner, sia il Sudafrica nella sua complicata dialettica tra le proprie radici e l'apertura agli altri. È stato molto chiaro veramente in questa puntata, ci ha detto tante cose nuove e tanti cliché, secondo me anche li abbiamo un pochettino rovesciati. Ha mai fatto in vita sua il direttore di un giornale? No, non ancora. Allora guardi, è facile, comincia adesso con noi. Noi le diamo sei notizie scelte dalla redazione, ma lei può metterne in pagina soltanto quattro. Cominciamo con la prima che ci viene dall'Argentina. Crisi argentina perché vola l'inflazione, il peso è crollato praticamente di un terzo nell'ultima settimana tra aprile e maggio e i tassi di interesse sono stati alzati, pensi, dal 27 al 40%. Oggi 23 peso per un dollaro, insomma diciamo che è un paese che sta soffrendo tantissimo in questi giorni a livello economico. Seconda foto ci viene dalla Russia, Putin IV l'abbiamo chiamata, come uno zar, perché di fatto questo sarà altri sei anni al governo per Putin, o meglio alla presidenza della Repubblica, perché il capo del governo è stato confermato da lui. Medvedev, cos'è successo? Che ha inaugurato il quarto mandato, ma che queste manifestazioni in 23 città per contestare l'inizio del suo quarto mandato, hanno già avuto 1600 arresti e tra cui anche Alexei Navalny, che era uno dei leader dell'opposizione che non si è potuto candidare contro Putin. Terza foto ci viene dalla Nigeria. Nigeria nel caos perché 45 persone sono rimaste uccise nel centro nord del paese in un attacco in un villaggio. Alcune delle vittime facevano parte di un gruppo di vigilantes della Nato, uccise da un gruppo armato. C'è poi anche una buona notizia però dalla Nigeria, il governo ha annunciato poco fa di aver liberato mille ostaggi dalle mani di Boko Haram. Quarta notizia, importante, viene dalla Spagna, fine di un'era. E l'era è quella del terrorismo basco. Dopo 59 anni si è sciolta l'ETA, organizzazione terroristica separatista, responsabile di oltre 800 morti. La fine è stata annunciata in un videomessaggio dal leader Urruti Corcea. La quinta viene dal Libano, dove ieri si è votato. Erano diversi anni, nel 2009, che non si votava in Libano e si è eletto il nuovo Parlamento. Il movimento sciita degli Hezbollah è avanzato parecchio, mentre invece ha perso un pochino il blocco sunnita del primo ministro Saad Hariri. Non una grande affluenza. L'ultima notizia ci viene dall'Italia, l'abbiamo chiamata governo neutrale. Sono le parole del presidente Mattarella che, finite le consultazioni con esito negativo, ha lanciato questa proposta. Un governo politicamente neutrale, possibilmente fino al 31 dicembre per approvare la finanziaria, composto da persone che non si candideranno alle prossime elezioni e ha chiesto ai partiti di sostenerlo con la fiducia, altrimenti si voterà o a luglio oppure in autunno. Pare che i partiti in queste ore stiano dicendo per ora di no. Comunque, la prima, la seconda, la terza e la quarta. Allora, è difficile perché sono tutte interessanti, però siccome a me piace la storia, prendo come prima l'ETA, la fine dell'ETA, perché chiude veramente un pezzo di storia che ha radici nel secolo scorso e che può essere una cosa che entrerà nei libri di storia. La seconda. La seconda, dal sudafricano, diciamo da osservatore del Sudafrica, di Conigeria, che è un paese altrettanto importante del Sudafrica per il contesto africano e quindi quello che succede in Nigeria è importante per il futuro di questo continente. La terza. Terza, scelgo Putin perché sul triangolo tra Europa, Stati Uniti, Putin, sul ruolo della Russia tra Medio Oriente e anche in Asia, passa molto della politica internazionale di questi anni. E infine l'ultima rimane Italia, Argentina o Libano? Direi Argentina, faccio ancora, assumo ancora un punto di vista sudafricano, perché l'Argentina è un paese diverso, con anche un'economia più instabile di quella sudafricana, ma che ha tante cose in comune anche con Sudafrica. Quindi la quarta è la crisi argentina. Allora abbiamo le sue quattro scelte, adesso le mettiamo accanto alla nostra pagina bianca e le facciamo velocemente entrare in pagina, iniziando dall'ETA, fine di un'era. Poi la Nigeria, Nigeria nel caos, quindi la Russia, Putin IV e infine crisi argentina. La pagina si sposta al centro, la domanda è quella canonica. Stampiamo? Stampiamo. Stampiamo. E arriva il timbro. Eccolo qua. Lo vedete? Direttore Rocco Ronza. Io adesso le presento invece un artista che è sudafricano ma ha un nome italiano, Marco Cianfanelli, lo conosce? Di nome sì. L'ho sentito nominare in Sudafrica, perché in effetti in Sudafrica è molto, molto noto. Ha il papà di Ariccia, a una ventina di chilometri da Roma, la mamma tedesca, è nata nel 70 a Johannesburg, dove vive e lavora. Molto apprezzato in Sudafrica, ha fatto parte anche del comitato che ha progettato il Parco della Libertà a Pretoria e oggi è sempre più conosciuto anche all'estero. Ha opere esposte al MoMA, New York, uno dei suoi ultimi lavori a Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Sta portando avanti opere in Texas e in Olanda. Usa vari materiali. Il concetto di base, e lo vedremo nell'opera, è che la forma di un oggetto è data dalla somma delle sue parti. Allora adesso andiamo a vedere quest'opera. è un'opera, vedete quant'è bella? Questa si vede a 35 metri di distanza. È un volto di Nelson Mandela. Si chiama Rilascio. Il rilascio si riferisce alla scarcerazione di Nelson Mandela. Perché questa scultura venne pensata nel 2012 proprio per ricordare i 50 anni del suo arresto. Per questo motivo si trova proprio nel luogo in cui Mandela venne arrestato nel 1962. Ora la stiamo vedendo in costruzione grazie a un video, un timelapse che ci ha dato un fotografo sudafricano, Jonathan Burton, che ringraziamo, e ci fa vedere come quest'opera appunto anche prende forma. Quindi queste colonne, 50 colonne, perché erano appunto i 50 anni, 50 sbarre di ferro, ognuna con una forma un po' diversa, tutte quante lavorate, a distanza danno questa straordinaria faccia di Nelson Mandela nel luogo in cui appunto viene arrestato. Ripeto, Marco Cianfanelli, l'artista, l'opera si chiama Rilascio e si trova appena fuori da Howick nella provincia del Quazulu Natal, una novantina di chilometri da Durban. Grazie mille Rocco Ronza. Grazie a voi. Per tutte le cose che ci ha spiegato. Noi lunedì prossimo parleremo del Venezuela, perché è un paese che ha lo sbando e che sta per andare al voto, un voto tra l'altro boicottato dalle opposizioni. Ci lasciamo con la nostra sigla finale. Buona settimana. Oggi è il primo giorno a Roma. Sono molto emozionata. È un regalo di compleanno per mio marito. Oggi, niente, faccio una bella ve passeggiata in giro qui per Roma. Oggi vado alla scoperta del quadrato. Oggi andremo a Monti, ci godremo il sole di Roma, faremo una passeggiata e vedremo le sue bellezze.